Dove sei? Dove sei? Dove sei? Eccolo! Eccolo qui! Spacchiamo tutto! Sì! Thanos spacca! Fantastico! Uccidiamo anche quello! Sì! Che figata! Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Fortnite! Oggi faremo una partita veramente leggendaria con Thanos! Abbiamo fatto veramente tantissime uccisioni! Ditevi nei commenti se vorreste vedere altri video di Fortnite, raggiungiamo i 3000 mi piace, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e ora godetevi questa fantastica partita! Eccolo qua! E' davanti a me il guanto dell'infinito! Sì! Andiamo subito a prenderlo! Sta atterrando qui di fronte, non so precisamente dove andrà, dove atterrerà! Ok! Atterra qua vicino al fiume? No! Atterra più lontano dal fiume! Ok! L'albero non l'ha spaccato! Sapete che faccio? Utilizzo l'albero per prendere subito il guanto dell'infinito! Vediamo, vediamo! Facciamo così, facciamo così, facciamo questo, facciamo questo! Sì! Andiamo, andiamo! Andiamo! Sì! Sì! Ce l'ho fatta! Ho utilizzato l'albero per prendermi il guanto dell'infinito! E sapete che faccio? Io atterro di nuovo qua! Perché qua adesso ci saranno un mucchio di persone, ne sono sicuro! Andiamo subito! No! Spacchiamo tutto! Dove sono? Ma dove sono? Ma che cosa? Ho sbagliato del tutto la strada! Non ci credo! Non è da questa parte! Che è quello piccolino? Che fa? Mi sta virando! Mi sta virando questo! Ok! Perfetto! Spariamoli subito! Haha! Prima uccisione con Thanos qui su Fortnite! Fantastico! Se vi piacciono questi video fantastici! Raggiungiamo i 3000 mi piace! Iscrivetevi al canale! Premendo il tasto nostro iscriviti! E stiamo attenti! Qua c'è qualcuno che mi sta sparando! Ehi tu! Cosa fai? Cosa fai? Vieni qui! Schifonzo! Sì! Avete visto? Non se lo aspettavo! Infatti non mi sono buttato da lui subito perché volevo usare la gemma del potere! Ok! Dobbiamo stare attenti! Qua c'è un cecchino sul fortatile! Credo che ci sia un cecchino qua sul fortatile! Vediamo un po'! Ok! Eccolo! Deve essere lì sopra! Perfetto! Facciamo una cosa! Andiamo subito! E cerchiamo di spaccare quel fortatile! Fantastico! È qui sopra! Ne sono sicuro! Spacchiamo tutto! Spacchiamo tutto! Fantastico! Eccolo! Eccolo! Sì! L'abbiamo ucciso! No! Ok! Basta! 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 Oh mio Dio! C'è un altro davanti! C'è un altro davanti! No! No! Ok! Vai! 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 Sì! Che figata! Quattro uccisioni! Mamma mia! Quello mi stava cecchinando alla lontananza con lo scar leggendario! Quello se continuava a spararmi! Poteva uccidermi! Perché ha smesso di spararmi? Che stupido! Non doveva fare questo! Ok! Adesso stiamo attenti! Dobbiamo giocarci ad astuzzi se vogliamo vincere questa partita! Là c'è la G-Tech si spara! Guarda! Guarda! Avviciniamoci con calma! Guarda quello! Guarda lo piccolo! Non si è accorto di niente! Andiamo! Andiamo! No! L'ha ucciso! Perché l'ha ucciso? C'è qualcuno qui! C'è qualcuno qua! Vediamo! Vediamo dove si trova! Dov'è? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Eccolo! Eccolo qui! Spacchiamo tutto! Sì! Thanos spacca! Fantastico! Uccidiamo anche quello! Sì! Che figata! Adesso usiamo tipo questo! Boom! Ah no no no! Guarda! Guarda! Là sopra sulla collina ho visto qualcuno! Mi è sembrato di vedere qualcuno secondo me! Spacchiamo questo albero! Thanos spacca! Sì! Thanos spacca! Ok! Non ho visto nessuno! Ok! Ho sbagliato! Non c'era proprio nessuno! Facciamo una cosa! Adesso andiamo in città? No! Facciamo una cosa! Cerchiamo di andare verso il bordo! Perché la gente che sta verso il bordo di solito ha tanta paura di me! Perché io sono il potente Thanos! E quindi la gente ha paura di me e sta tipo nel bordo cercando di sopravvivere! Però sapete noi che facciamo? Andiamo a fare una bella visitina a tutti quelli che stanno nel bordo! Ciao! Ciao amici! Sto arrivando! Il potente Thanos con il guanto dell'infinito con tutte le gemme sta arrivando! E vi vuole uccidere! Vi vuole distruggere! Vi ricordo che se vi iscrivete al canale e premete il tasto nostro iscriviti non vi perderete mai questi video di Fortnite bellissimi! Ogni volta vi verrà fuori un avviso che è uscito un video di Fortnite fantastico! Oh! Qua c'è un airdrop che sta cascando! Perfetto! Noi entriamo in questa caverna che non si sa mai che vediamo qualcuno qua! Non è esplorato! Uh! Qua hanno esplorato! Siamo molto vicini al bordo! Lo so! Lo so! È veramente riscoso quello che sto facendo! Ma voglio cercare di fare una bella partita con Thanos! E voglio cercare di arrivare al Deadmatch! Perché di solito quando prendi Thanos all'inizio diventa molto più difficile sopravvivere! Perché tutti ti possono sparare! Infatti ti tolgono tanta vita! Eccetera eccetera! E infatti a me me l'hanno tolto in tantissimi! Guardate! C'ho 460 HP adesso! Vediamo se possiamo ballare! Balliamo! Balliamo! Sì! Sì che possiamo ballare! Balliamo! Fantastico! Il potente Thanos si prende una pausa! Adesso basta! Non voglio più distruggere gli universi! Voglio semplicemente cercare di ballare! Sì! Ok! Balliamo! Sì! Guarda qua che figata! Adoro giocare con Thanos! E mi dispiace tanto che la modalità sia finita ed è stata rimossa! Infatti adesso l'hanno tolta e quindi non ci sarà più Thanos qui su Fortnite! Spero che in futuro faranno altre modalità con altri boss perché sono troppo, troppo divertenti! Andiamo da quello va! Guarda qua! Qua cosa sta facendo quello! Andiamo! Sì! Fantastico! Sì! Sì! Cosa credeva di fare? Credeva che fossi Nabbo! Credeva che fossi Nabbo! Ma invece no! Non sono Nabbo! Ma posso prendere la giamba dell'infinito? Ah no! È vero! Io ce l'ho già nel guanto! Non mi serve la giamba dell'infinito! Sì! Che figata! Allora siamo qua vicino alla prigione! No! Oh! Cosa? Oh mio Dio! Chi è stato? Ah! Che male! Mi ha scioltato qualcuno da dietro! Che paura! Eccolo! L'ho visto! L'ho visto! Si trova tipo là dietro! Che sta facendo? Dov'è? Ok! Spacchiamo qua! Eccolo! È qui! Dove? Dove? Dov'è? Dov'è? Eccolo! È sulla casa! Guardalo! È sulla casa! Non ci credo! Andiamo! Andiamo subito! Guardalo! Oh mio Dio! Ok! Facciamolo! Spacchiamolo! 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 Ok! Vai 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 vai! Oh mio Dio! Ok! Sì sì! Lo uccidiamo! Lo uccidiamo! Mamma mia! È forte! È fortissimo questo! Che sta facendo? Eccolo qui! Oh mio Dio! Mi vuole cecchinare! No! Sì! L'abbiamo ucciso! Questo qua era veramente tanto tanto forte! Avete visto? Mamma mia! Per un attimo! Mi sono visto la morte in faccia! Non ci credo! Per un attimo questo mi ha rubato il guanto dell'infinito! Non ci posso credere! Che paura che ho avuto! Dobbiamo stare molto attenti perché ci sono veramente tanti haters! Tanti invidiosi! Che cercano di rubarmi il guanto! Ma no! Non vi prenderete mai questo guanto! Questo guanto è bio! Ci ho messo anche il mio nome sopra! Airbac Zayn! Adesso è bio! Non lo può prendere proprio nessuno! Ok! Quando intanto hanno costruito? È vero? Qua avevamo ucciso prima con le persone! Giusto! Siamo rimasti tipo in venti! Oh! Qualcuno qua ha sparato! Andiamo da questa parte! Subito! Muoviamoci! Dobbiamo essere il potente Thanos e dobbiamo far rispettare le regole qui su Fortnite! Sì! Mamma mia! Scrivetemi nei commenti hashtag Thanos se vi piace questo boss! E speriamo che in futuro l'Hypic Games aggiunga altri boss fantastici! Guardalo! Guardalo! Eccolo! Eccolo! Guardalo! 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 Che sta facendo? Mi sta cercando! Fantastico! Spacchiamo! Sì! Abbiamo spaccato tutto! C'è qualcun altro credo! O l'ha ucciso? Credo che l'abbia ucciso! Non lo so! Non capisco! Qualcuno si sta nascondendo secondo me! Vediamo se c'è qualcun altro qua! No! Deve averlo ucciso! Fantastico! Sì! Abbiamo spaccato tutto! Che figata! Stiamo lontani da questo porco bislacco perché non mi piace! C'è pieno di case, edifici, posti dove la gente può nascondersi! Quindi è molto molto pericoloso stare qua! Oh mio Dio! È molto pericoloso! Però non so che cosa fare! Secondo me c'è ancora qualcuno in vita in questo paese! Oh! Guarda quel piccolino! Vole prendersi l'air drop! No! Piccolo! Te lo spacco! Te lo spacco l'air drop! Fantastico! Dai muori! Cosa fai? Dove è andato? Dove è andato? Oh! Voleva spaccare! Non ci credo! Voleva farmi spodre con lanciarazzi! Poverino! Guarda il razzo ha beccato l'albero! No! Mi dispiace ma hai sbagliato la birra secondo me! Secondo me hai sbagliato la birra! Io non ero da quella parte! Ero davanti a te! Oh! Questo mi ha shottato! Che sta utilizzando? Mio Dio! Mi sta shottando questo! Non ci credo! Ok! Vai vai vai! Spacchiamo! Sì! Ma babbia! Per fortuna che ho girato l'angolo facendo finta di aver paura e invece no! E invece no! Nell'angolo poi lui si è ritrovato in faccia il quanto dell'infinito e l'ho distrutto! Questo qua era quello a cui stava sparando con la ragazzina prima! Infatti lo sapevo che c'era qualcun altro in vita! Adesso che facciamo? Andiamo verso il cratere? Sì perché tanto qua mi sa che non c'è più nessuno in vita! Ma possiamo spaccare l'Eighton Vendor? No! Il Machine Vendor non si può spaccare! E' invincibile! Che peccato! Siamo rimasti in 13! Questa partita è veramente tanto tanto difficile! Dobbiamo concentrarci per poter vincere! Però quello lì era veramente bravo! Stavo utilizzando lo SCAR davvero davvero bene! Infatti mi aveva tolto un mucchio di armatura e un mucchio di vita! Anzi no! La vita per fortuna non me l'ha toccata! Ma mi aveva tolto tutta l'armatura in due secondi! Mi aveva spaventato tantissimo! Non ci credo! Quello ce l'aveva quasi fatta a rubarmi il guanto! Allora facciamo una cosa! Vediamo se qua c'è qualcuno! Non vedo proprio nessuno! No! Cacchio! Qua nel cratere non c'è proprio nessuno! Facciamo una cosa! Assaliamo su questa montagna! Chissà! Forse su questa montagna ci sarà qualcuno! Probabile! Che figata! Andiamo qui sopra e controlliamo se c'è qualcuno verso il bordo! Ci deve essere qualcuno verso il bordo! Però il problema è che non possiamo stare così fermi! Perché se no dopo ci possono cecchinare in due secondi! Ma sto cercando di capire se c'è qualcuno! Ecco! Avete sentito? Avete sentito? Ci stanno dei cecchini da questa parte! Da questa parte ci stanno dei cecchini! Dove sono? Eccoli! Eccoli! L'ho visto! L'ho visto! L'avete visto? Io l'ho visto! Andiamo! Adesso facciamo una cosa! Andiamo di nuovo! Ora faccio un salto di nuovo e li becco la torre! Gliela becco! Gliela distruggo! Vai! Spacchiamo! Sì! Dove è andato? Dove è andato? È qui sopra! È qua sopra! Facciamo una cosa! Spacchiamo questa cosa! Spacchiamo questa cosa! Dai! Spacchiamo tutto! Sì! Dove è andato? Non ci credo! È qui sopra! Oh! L'abbiamo ucciso! Non ci credo! Si stava nascondendo qui sotto! Ok! L'altro deve essere qui da questa parte! No! Guarda là! C'è un cecchino! Scappiamo! Scappiamo! Scappiamo via! Scappiamo via! No! Mamma mia! Qua mi ammazzano! Qua mi ammazzano! Qua mi ammazzano! Mamma mia! Ok! Via! 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 Scappiamo via! Perfetto! Perché quello lì è veramente forte! Mi stava cecchinando veramente bene! Mamma mia! Un cecchino! Abbiamo incontrato un cecchino! No! Cosa c'è? Cosa c'è? No! Mi hanno ucciso! Mi hanno ucciso! No! Peccato! Avevo quasi ammazzato questo! Avevo quasi ricaricato l'armatura! Che sfortuna! Mi stavano facendo fuoco incrociato! E questo qua ha ucciso quella lì che mi ha ucciso! Pazzesco! No! Anzi! Questo mi ha ucciso! Però questo ha ucciso quell'altra che mi stava uccidendo! Che io avevo quasi ucciso! No! Picchi! Picchi! Siamo morti! Comunque mi sono divertito veramente tantissimo! Abbiamo fatto 12 uccisioni! Spero che questo video contano se ti sia piaciuto! Raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo video di Fortnite! Iscrivetevi al canale premendo il tasto su iscriviti! E ci vediamo al prossimo video! Ciao ciao! Ciao!